buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio di il tempio della vita allora come potrete notare ho cambiato il salvataggio perché il vecchio l'avevo perso e ora iniziato da qua il pezzo che si vede alla fine dell'ultimo video l'ho già fatto vi ho evitato tutta quella roba delle casse e ho preso la chiave si dovrebbe trovare sulla destra sulla destra si dovrebbe trovare la chiave comunque si passa e dentro un hopper bisogna mettere una chiave e si arriva fino a questo punto verrete teletrasportati ecco ora io direi di continuare come ho detto nel vlog ho perso il salvataggio aspettate ho fatto due sezioni io dovrei fare un'altra sezione ancora aspetta dovrei avere nella chat ecco eccellente lato della torre capovolta è stato attivato con successo perché l'ho fatto poco fa e bene abbiamo ancora due sezioni da fare e la P e la R oddio ho sentito due creeper cadere devo vedere che mi esplodono da dietro ma stanno cadendo da tutte le parti eccoli là il posto dei rampicanti tanto anche se esplodono non fanno niente oh che bello ricordatevi la regola dei creeper anzi quasi quasi io direi che quella torre già non mi piace molto facciamo l'altra tanto abbiamo due possibilità diamo la sezione P come è ricordatevi la regola dei creeper comunque una volta vi aiuta no due volte vi aiuta e una volta va a mazza questa è la torre più facile just saying torre P se lo dici tu che è la torre più facile sperando che non dici che è facile poi me la pillo nel di dietro speriamo proprio no perché nell'altra torre già solo a vedere quelle fence quella fence gigantesca già mi fa capire cosa ci possa essere allora cosa cazzo sono ste pleasure plate mi devono far paura che basta che bastardata che bastardata infame ma io non ci credo che possa riuscire a fare delle cose del genere come può voler così tanto male a chi gioca le sue mappe ricky ecco prima ero addirittura riuscita ad evitare quella roba lì rifacciamolo sì che tanto non posso più caderci ah hai capito tu ti ha fatto il passaggio cioè tu dovevi andarci per forza la sopra ti facevo il passaggio boh grazie ricky è una bastardata però mi ha aiutato nel tragitto ci mancava solo che fosse lo sticky piston se erano sticky piston nella cacca anzi nella la merda perchè dire cacca è un termine che ti fa molto più molto più sfogare la merda i termini da parkour devo fare una lista di termini da parkour che ti fanno sfogare mentre sbagli probabilmente ci lavorerò su forse probabilmente o come solo una cosa che dirò che non farò sì è improbabile quanto ne abbiamo ma ti demoralizza guardare all'insù ti demoralizza veramente ok 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 di qua sta diventando pure buio inizia a non vederci più niente più che altro non tanto per me ma tanto per voi non vorrei che fosse troppo buio non si vede niente ecco così illuminato a giorno quasi ok qua è già tanto che ricky ha fatto una protezione sotto perchè se cadevo da ste scale quante ne avrei tirate ecco già che non riesco a farle di qua di qua di qua sali no così ecco così no sono un genio ok così vai 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 perfetto no dai che manca poco c'è il punto che bisogna usare un metodo qui che se no si cade ecco meno male che avevo quasi finito cioè stare nel mezzo oh che palle per quella per quella fottuta scala non posso fare niente io sto iniziando ad odiare ste scale bastarde ok d'ora in poi posso anche permettermi di salire sulle scale ok fatto giuro giuro che se cado da qua vabbè che nel contatore dei fail è assicurato però no addio quanto ho rischiato quanto ho rischiato meno male che siamo quasi alla fine e questa dovrebbe essere la parte della mappa con più parkour questa sezione qua che dovrebbe essere quella con la foresta che di sezioni ne ho fatte due questa che sto facendo ed un'altra che è quella del ghiaccio in cui c'aveva molto più combattimento uh e anche sta torre è fatta hai ottenuto la chiave P usala per accedere alla sezione P della torre capovolta buona fortuna P allora anche dei bei stivaletti a gratis e della carne ottimo così possiamo togliere questi qua di chain di calzamaglia guardate ragazzi che la tentazione di scambiare un fail per una caduta è troppo alta ma non posso ecco l'ho scambiato proprio a gratis a sto giro ma scusa ho gli stivali dovrei farmi poco danno ok così vai giù perfetto andiamocene via da qua e non so quanto ho registrato ma vabbè credo di fare la sezione P un po' di chiudere faccio una sezione episodio tanto ne rimane solo più una torre capovolta sezione P piacere qua ok a posto sta pleasure plate mi fa paura cara pleasure plate ok è vero che la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa la pace nel mondo ricchi cioè le opzioni sono sì no la pace nel mondo io premo la pace nel mondo ah no non è giusto che bastardo no non è di qua questa è la sezione Q dovevo andare nella sezione P P che bastardate la pace nel mondo mi aspettavo che fosse una di quelle cose in cui tu tutto ho tentato a rispondere questo rispondevi uno dei due e alla fine era questa la risposta giusta invece no ah sì non lo so perfetto non era neanche no era sì perfetto ahia ricky qua è sbagliato qualcosa non sono morto oh un creeper oh qua un altro creeper guarda che belli ciao ciao ok non può essere altro che sì la risposta infatti no un altro no ok da ora da ora una domanda più seria che formano gli orbitali di tipo S ah l'ho studiato in chimica poco fa creatore di questa mappa è uno stronzo lo so perché ci mette le domande così difficili premerò questo bottone nella speranza che cada qualcosa di buono non hanno alcuna forma sferica mmm allora la forma sferica da quanto so ce l'hanno però scusa un attimo cioè tu non è che mi dai delle possibilità no tre bottoni a caso cioè ma se se lo dice da solo io premo sto tasto per forza figliuolo premendo bottoni a minchiam non risolverei nulla ragione c'è della risposta corretta è un genio ricky cosa c'è qua dietro una lampada è messa così e basta vabbò sferica per forza infatti l'ho studiato ottimo ora un'altra domanda con cinque risposte un'altra domanda vediamo se sei attento quale dei seguenti non è il nome di una delle torri presenti in questa zona eh io sono molto attento la s io sono attentissimo eccellente un'ultima domanda la lana di quale colore è presente in quantità maggiore conte divertiti ammazzati richi ammazzati il punto è quale possibili risposte non sono mica poche una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici anche se volessi provare ad andare a caso c'è da ammazzarsi allora vediamo ad occhio quale può essere qua sarebbe molto bello poter avere una bella scala per vedere sopra c'è anche il mio computer che si sta incazzando con la ventola allora io a contarli non ci penso nemmeno guardiamo un po' ad occhio i viola i viola si presentano molte volte però non credo che siano tantissime io proverei a dire viola c'era una volta una risposta giusta infatti dove cazzo son caduto non mi dire che si è baggata la mappa non ci voglio credere non ci voglio credere che si è baggata la mappa aspetta che altezza siamo? 120 oddio si 129 è l'unica a provare a scavare qualche blocco e questa roba sicuramente lui l'ha fatta con mcedit quindi non avrà mai una fine l'unica a poter scavare appunto che dove cazzo sono io? vero un bel piccone magari sarebbe molto più comodo scavare a mano eh si domani finiamo bene come la risolvo sta cosa? Ricky? non può aiutarmi in questo momento? ma perchè devo avere io tutta sta sfiga? ah beh si sono un piccone mi risolverei sta faccenda eh ragazzi l'unica è che taglio il video e ritorno al punto dove ero prima da video vedo le coordinate e mi faccio il teletrasporto è l'unica cosa che posso fare eh già è l'unica ok ci vediamo fra un momento eccoci qui ragazzi allora scusate ma ho dovuto mettermi la creativa perchè sennò da qua non ne uscivo più Ricky si è dimenticato di mettere un numero nel teletrasporto infatti ho provato diverse combinazioni fino a trovare quella giusta Ricky in poche parole mi aveva teletrasportato in queste coordinate che avete visto prima ma si è dimenticato di mettere uno zero alla prima ho provato a mettere uno zero e sono ritornato agli inizi della mappa e ho continuato fino ad arrivare qui eh ok ora sappiamo assolutamente che non è la lana viola quindi se ci ricapita di nuovo il bug sappiamo che le coordinate sono queste qua 750, 204, 1621 ok il viola non è poi vediamo cos'altro potrebbe essere no io spero solo che Ricky non abbia fatto in modo che quel blocco si ripeteva una sola volta in più rispetto agli altri perchè sennò c'è da ammazzarsi potremmo provare col blu proviamo ok almeno sti teletrasporti funzionano eh già Ricky eh già non funziona più molto il metodo con sti stivali c'è ogni volta me la devo fare a piedi facciamo una cosa va me li tolgo così almeno prendiamo il fail e non dobbiamo rifarci tutto il giro ogni volta allora mmm si era si qua era sferica qua era la s e qua non è il blu e non è di certo il viola il verde nada rispawn eh ma tanto ritorniamo sempre qua quindi a sto punto Ricky credo che l'aveva già programmata una cosa del genere no era la p ma che palle però allora si sferica s allora blu verde viola non è mo ci manca solo che era il viola solo che ha sbagliato le coordinate ci manca solo questo ma non credo proprio perchè molti sul forum hanno riportato di aver finito la mappa quindi proverei con l'ar- l'azzurrino o l'ho già provato no non l'ho provato l'azzurrino questo qua ecco guarda dove sono finito eh eccolo lì di nuovo dove prima a sto giro almeno sono morto allora 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 mhm p 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 ecco è caduto un creeper no ma ne vado via ok sferica allora non è viola non è zurrino non è blu cosa può essere giallo non credo proviamo anche giallo tanto ormai ah era giallo ottimo eccellente superato la sezione p ad coulum l'ho superata al tuo modo tu hai detto a minchiam io ad coulum allora inserisci la chiave nell'hopper per attivare questo lato della torre capovolta quale chiave ci mancherebbe eh si comunque era fattibile sta zona qua no perché certe volte è probabile che le persone si dimentichino di fare alcune cose nelle mappe bastardo ha attivato il dato p della torre capovolta stupefacente alla di pre sezione dai esplodi dai così sei più contento ah ora si che è contento quel creeper ma quasi quasi io direi che la sezione r la facciamo nel prossimo episodio ma si esplode anche tu tanto ci vogliamo bene ormai e quindi ci vediamo nel prossimo episodio per questo è tutto questo è l'episodio più buggoso del mondo e alla prossima mmm ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti